Prende anche i bistecchi di me con Erika No no frati devi stare zitto Ragazzi benvenuti bentornati oggi siamo di nuovo su Apex Mobile L'accantonato il capitolo col controller quindi torniamo a giocare col touch E oggi siamo qui per iniziare le ranked, le partite classificate Non per un motivo in particolare ma perché sono ferro E essere ferro è deprimente figa cioè va bene bronzo va bene argento Ma dire di essere ferro è fucking deprimente A una settimana dal lancio globale di Apex Mobile Fatemi sapere con un commento se state continuando a giocare a questo gioco Anche così una partitina ogni tanto Lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale Mi raccomando vi aspetto tutte le sere in live su Twitch e buona visione Prende anche i bistecchi di me con Erika No no frati devi stare zitto Come minchia tolgo l'audio della squadra Muta mutameli entrambi mutameli entrambi Perfetto no per favore fra Per favore fra vorrei selezionare blowdown per favore Oh sta cambiando sta cambiando Non sta cambiando Non sta cambiando non posso prendere il blow di chi pigliamo Fade E pigliamo fade Mamma mia che squadra temibile Siamo i campioni Non posso cioè non sono io il jump master glielo pingo però Andiamo a Capitol City per favore Minchia che ricordi è la Capitol City senza il lago di lava in mezzo Il lago il fiume di lava in mezzo Madonna mia Ehm Sì Sì Elstar Che in verità su mobile Elstar non è male Vi dico una cosa Io avevo cambiato i tasti praticamente Avevo cambiato la configurazione di tasti Per poter giocare a più dita Avevo provato a cambiare qualcosina Però niente Sono tornato i tasti di base Perché ho provato una partita e facevo veramente vomitare Poi magari quando ho più tempo a disposizione mi metto bene Cerco delle impostazioni decenti Ci faccio video sopra Per il momento andiamo con i comandi di base Che quantomeno li ho già usati E dovrei riuscire a fare qualcosa Scatto in avanti Posso trovare un'arma? Che è sta roba? Avoc Avoc che va a 8 Allora io mi rifiuto di pensare che a Capitol City non sia sceso nessuno Giusto? Qui c'è una batteria scura È una viola quella roba Minchia che vista che ho 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 Non c'è nessuno a Capitol City veramente? No ok c'è una cassa aperta Aspetta Segni di civiltà C'è una persona Segni di civiltà Gli proverai a sparare da lontano Ma farò una brutta figura Esattamente 36 Mamma mia Sì però Tu o sei il peggiore dei bot Proprio programmato minchia male Ma sai che lei invece mi ha colpito abbastanza invece? Sai che lei invece mi ha colpito abbastanza? No Mirash Ma sei tu Non puoi essere tu No aspetta 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 che questo è un altro team Io direi Gli buttiamo una bomba qua Così Non li può arrestare Immagino Se li ho colpiti Se li ho dei colpi per fightare Vero? Ok Un team è morto Sì diciamo che in prima persona C'è un po' di training da fare Perché spari in una maniera abbastanza imbarazzante Allora Ok esatto Stavo dicendo allora Io ho sentito qualcosa Mamma mia però Lavo col Avere il mirino fa tanto la differenza Cioè io su Apex normale Li ripudio i mirini Non li uso mai Ma effettivamente qua su mobile Quando sta in prima persona Ti danno una mano enorme Ti danno una mano veramente enorme Ma infatti c'è qua la differenza Rispetto a come sparavo prima Adesso col mirino Minchia Minchia Ti prego Ci sta un armor blu? No Erano tutti e tre bianchi No 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 Da dove? Da dove? Ma mi spari Dalla col pompa Fra Mi spari Dalla col pompa No Minchia Ma perché questa laggatina? Ma perché questa laggatina? Eh Va bene questo aveva la viola Fantastico Aspetta che qua Allora la gestione dell'inventario Mi è ancora un po' difficile Io sto usando sta leggenda L'abilità non le uso tipo mai La passiva ho La passiva quantomeno si Comunque raga Queste lobby sono piene Zeppi di bot Ma in una maniera incredibile È normale per un gioco mobile L'ho già fatto questo discorso E invece mi sa che per non averne Per averne proprio zero Bisogna essere tipo da oro platino in su Il problema è che Arrivarci a oro platino Giocando in lobby che sono così Piene di bot Gente che non ti spara Mmm C'ha un po' Noiosetto Infatti per questo dico che per me Questo è un gioco 100% for fun Da fare a letto Dai 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 Che smiratino ho tirato Non che lui con l'amlock sia stato tanto meglio Ma che poi se dovete fare i bot Ma li fate intelligenti almeno? Cioè non penso sia difficile Fargli sparare bene almeno Cioè almeno sparare bene figa Gli metti un attimo di autoagganciamento sul nemico Io vorrei veramente capire Quel Josh Elfe Questo qua che ha appena fatto l'esecution Dove minchia li stai trovando gli avversari No ti stanno sparando No Ma sincero Devo andare ad aiutarlo Sparano anche a me o da dove? Mmm Cosa? Oddio Sono abituato all'avoc Diciamo che ero abituato all'avoc Ho sparato in un modo esceno con la carabina Non lo so Mi sta laggando più del solito il gioco Il gioco mi sta lagghecchiando più del solito Cioè vedo che ogni volta che faccio una kill da davanti Eh sì Questo sembra quasi serio Vabbè ma fra Cioè il mio compagno che sta là con Radius Il mio compagno che sta là con Radius Ma Cristo iddio fra Questo qua secondo me è mezzo serio E non mi fa sparare Non mi fa sparare Mio Mio Dai Sì Sì ne ho trovato uno Sì ne ho trovato un altro Occhi aperti Ma occhi aperti De che? Ma il bombardamento per chi? Dove? Perché? Ma cosa? Perché? Perché sta roba? Va bene Ma ne hai uno a terra E non te lo riesci Ah ma questo era il famoso Josh Questo era Josh F Questo è quello che faceva il disastro prima Campioncino 14 kill 2600 Cioè peccato perché era un buono start Poi figa non trovo nessuno Il problema qua è che queste lobby appunto sono piene di bot E giocano E l'entano In una maniera Che non riesce a comprendere Cioè ci stava Capital city Vuota Vuota Oh Ferro 3 Quanti punti ho fatto? Cioè quanti punti ti dà una win full points a ferro? Minchia Quasi un rank intero Oh Ma hanno lasciato blow down È un sogno No ti prego Non mi dire così Cioè capital city di nuovo vuota No vi giuro non ci scendo Ok un team un team un team un team un team È qualcosa Allora è morto il mio compagno È una cosa positiva Perché vuol dire che c'è gente No aspe Ah ma figa è morto d'area di trivellazione Non sta capital con me Ma dai No 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 Di nuovo nessuno ha capital Vi giuro Oh a parte che è bellissima questa zona piena di neve Non me ne ero accorto Secondo me Apex mobile così rompe un po' le palle Cioè io su deathmatch mi diverto un botto Perché sparo tutto il tempo E su un gioco mobile è come deve essere Cioè un gioco mobile deve essere veloce Frenetico Mentre così in battle royale Classificata Girare tanto tempo senza trovare nessuno Cioè Non lo so Ma no esplodi Bravo 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 Guardate la p2020 Guardate la p2020 Guardate la p2020 È devastante La p2020 è devastante Perché spara in automatico In automatico Cioè No vorresti fare l'esecution Ma mi sa che non la farai Dicevo Spara a fuoco automatico Senza il bisogno che tu spammi I colpi L'esecution La volevi fare Te la becchi Questo è chiamato Karma Brutta puttana Ma Ok Cioè non me ne ero accorto minimamente No sono solo di sentinel Fammi prendere sta conferma per favore Sì Sì mamma mia quanto sto godendo Quanto sto godendo ti giuro fra troppo Fra bengalore troppo Sto godendo troppo Dove sta l'altro che gli sparava Ma da dietro di me non mi colpisce Ah No Non è sopra Oh sì Oh sì No Figa non è morto Che palle Oh sì No Minchia quello ci sarebbe morto Secondo me se non avesse messo la bolla al gibbo Esci da sta bolla Sta già ressando Sta già ressando Che palle Che palle me li ero mangiati Questi di sentinel me li ero mangiati Gibbo vieni qua Vai pigliati lì pure tu No 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 A terra di nuovo A terra di nuovo Dai No 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 lo devo fare di sentinel Lo devo fare di sentinel Non mi importa nulla Piuttosto ci crepo Cioè Non puoi non ucciderlo di sentinel Dopo tutta sta roba Minchia quanto è divertente il sentinel Oh Quanto è divertente il sentinel Sono sottotiro Oh Minchia 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 Un full team Comparso così dal nulla Mato Oh Sta arrivando il mio teammate Ti adoro Fammi prendi in mano l'arma però Oh Dai 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 Godo Godo Atterrato di nuovo No volevo scivolare Non volevo fare sta Cazzata No No scappa in fade Tu non lo devi fare Tu non lo devi fare Tu non devi scappare No 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 Godo tantissimo Dove sta l'ultimo Dove sta l'ultimo Occhio Di blotunda Sono stupido io Me lo so perso completamente Non lo so Noi nel dubbio Confermiamo Si suoppa l'armatura Se è permesso Qui c'è un casco Qui c'è un stabilizzato A posto E dirò di più Si torna di sentinel Perché lo voglio uccidere di sentinel Quello sta facendo esecution Che sta a fare Bravo Bravo Ma l'hai ucciso l'ultimo Non si sa No non l'hai ucciso l'ultimo E Ah minchia è vero che sono tornato sul sentinel Minchia mi stava un attimo andando In buffing il cervello Ho detto Oh HS Ho detto Perché minchia non spara il flatline Ok 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 È mio tranquillo Perché sto ancora con l'uno Perché non ci vede una sega Ma lo colpisco Ma lo colpisco No Non lo colpisco Ma lo colpisco No Brutate missata Bella hit Oh sì Oh sì E Vorrei lutare Grazie Vai Secondo tentativo Almeno un'arma me la dai Krabber Godo Ma godo tipo tantissimo Il nemico vicino Veramente Arrivo Fratello mio Arrivo Ci sono 145 Mi devo fullare Mi devo fullare Ma che è sta roba Una rampart Minchia sento Boh un rumore stranissimo Però Da console Non fa così 145 ancora Non mi fa mirare Ah sta ricaricando A posto Dove sta l'ultimo Dove sta l'ultimo Dove sta l'ultimo Qua dietro No ti prego è mio Ti prego è mio Ti prego è mio No Mi stanno Sì Godo tantissimo Octen Ti devi stare fermo Devi stare fermo Mirage Zero danni 30 uccisioni Com'è? La prossima volta Non ti separe All'end? Addirittura Ferro 2 Raga Non so se vi porterò Tutta la scalata Se continuerò In caso Fatemi sapere con un commento Se volete altri video Da mobile Nelle ranked Diciamo che magari Almeno fino ad Argento Oro Barra Platino Ci arrivo in solo Senza portare video Poi quando le cose Si fanno serie Registriamo Raga Grazie per la visione Se il video vi è piaciuto Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Su Apex Mobile E noi ci vediamo Questa sera in live Ci vediamo domani Su YouTube alle 18 Con Apex Normale penso Ma questa sera In live alle 21 Su Twitch Link in descrizione E primo commento In evidenza